Ciao! Allora, velocissimamente voglio farvi vedere l'ordine che mi è arrivato della Yves Rocher. Ultimamente, qui c'è la mia scimmettina finta di quando ero piccola, ultimamente non vi ho più fatto vedere video di spacchettamento, un po' perché la roba era poca e un po' perché mi era passata sinceramente la voglia, dato che la mia responsabile di zona non mi aiuta in nessun modo, se li faccio una qualsiasi domanda non mi risponde, per cui si rispondono tra di loro perché hanno il gruppettino di amiche e le altre che non sono il gruppettino non vengono considerate e questa è una cosa che mi dà veramente sui nervi, visto che comunque lei guadagna anche sugli ordini che faccio io. Infatti questo è uno dei motivi per cui non mi metto tanto di impegno a vendere i prodotti della Yves Rocher, nonostante secondo me siano molto validi e anche secondo i miei familiari che comunque anche loro ordinano sempre, mia madre è una persona molto allergica a tutto e questi prodotti non li fanno allergia, la mamma del mio ragazzo anche lei ordina spesso, quindi vuol dire che i prodotti piacciono, piacciono anche a me, c'è da dire che tanti prodotti hanno un inchi accettabile, alcuni sono proprio certificati bio, altri invece hanno un inchi da paura perché veramente fanno schifo, però comunque diciamo che si può trovare il giusto compromesso. Ecco, allora parto subito, c'era nell'album questo qua, il numero 2, c'è in corso quest'offerta, dove ci sono due shampoo delicati alla Mamelis a 5 euro e infatti me ne sono stati due, ordinati due. Questi shampoo devo dire che tutti gli shampoo piacciono veramente a tutti, compresa me, sono veramente molto buoni e l'inchi di quasi tutti gli shampoo, mi sembra però di tutti, sono veramente buoni. Quindi io vi faccio vedere velocemente, quindi ci possono stare, diciamo così. Poi c'era un'offerta dove una crema notte e una crema giorno della linea Rick Cream insieme venivano 27 euro e qualcosa, e poco più insomma, quindi mi sono state ordinate. Anche questa linea qua piace moltissimo, l'inchi non penso che siano così strepitosi, comunque ecco, vi faccio vedere, fate pure il fermo immagine. Questa è di quella da giorno. Quella da notte non ve la faccio vedere, tanto insomma più o meno saranno simili, ecco. Poi mi è stata ordinata la crema da notte Lifting Bio, questo qui ovviamente, anche questa è antirughe, è certificata, costa sui 16 euro questa, e questa è Bio, l'inchi è ottimo, e appunto è certificata. Ecco, cert, vi faccio vedere. E questa è l'inchi. Poi, mi sono state ordinate due creme mani, anche queste creme mani qua, che sono quelle concentrato antifreddo, piacciono, la usa anche mamma, e si sta trovando bene. Di questa però vi dico che c'è la paraffina, per cui io vi avviso, l'inchi qua dietro non c'è, però fidatevi perché l'ho visto io, e qui c'è la paraffina, quindi ve lo dico a chi interessa, e chi non interessa fa come vuole. Poi mi è stato ordinato questa qua, che è una cipria, questa ve la apro perché è di mia zia, per cui voglio farvela vedere, eccola qua. Ci sono dei colori bellissimi, io uso la cipria quella effetto abbronzato, e è fantastica, mi piace davvero tantissimo, mi sto trovando molto bene, questa invece l'ho ordinata lei, quindi vi farò al limite sapere come si trova. Poi, una spugnettina, questa qua, per il fondotinta. Mi è arrivato in omaggio, con l'ordine veloce, le salviettine questa qua, Serum Vegetal, che sono le salviettine struccanti. Questo è l'inch delle salviettine. Poi, il fondotinta, quello zero difetti. Eccolo qua. L'inch non so se c'è, perché poi non lo mettono neanche a tutti i prodotti, ma anche questa è una cosa che non mi piace molto. Mi trema la mano, cercate di fare fermo immagine, comunque questo è il fondotinta zero difetti. Poi, due deodoranti, anche i deodoranti sono favolosi, questi qua sono quelli nuovi al tè verde, senza sali d'alluminio, con l'inci che è veramente buono. Vi faccio vedere. Questo è l'inci. Poi, mi è stata ordinata questa qui, che è la crema mani, sublimatrice 2 in 1, mani e unghie. Questa è l'inci. E questa è la crema. E poi, mi sono state ordinate due matite. Due matite occhi, una nera e una marrone. Con due prodotti, che non mi ricordo quali, davano anche in omaggio queste due mini creminne della Serum Vegetal. E vabbè, ora poi dovrò guardare cosa. Poi, ovviamente, c'era l'album 3 e la fattura. Quindi, questo era il mio ordine. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao! 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 !